Ci troviamo a Parma, l'ex Molino, dove la scorsa notte Daniele Tanzi e la sua fidanzata sono stati aggrediti da Patrick Mallardo, che sembrerebbe essere l'ex fidanzato della compagna di Daniele. Purtroppo per Daniele non c'è stato nulla da fare, in quanto è stato raggiunto da ben 24 coltellate, mentre invece la ragazza fortunatamente è riuscita a sfuggire al suo aggressore. Conoscevo la ragazza, la famiglia, era una ragazza posta, anche la famiglia è tranquillissima, non c'erano mai stati problemi a parte l'ex che ogni tanto veniva a rompere le scatole a lei. Siamo nel 2021, non dovrebbero esistere queste cose, anche perché io non posso avere il terrore che il mio ex ammazza il mio compagno, no, non esiste. La domanda più frequente alla quale ancora oggi nessuno riesce a rispondere è cosa possa aver spinto la giovane coppia a recarsi presso un luogo così degradato per passare la notte. Non lo so, me lo sto facendo anche io questa domanda, infatti non vedo l'ora di vederla per chiederle perché sei andata là, anche perché sua mamma ieri ci ha parlato e ha detto che potevano dormire qua. Penso che sia una cosa orribile, penso che la gelosia va un attimo controllata e potrebbe fare anche brutti scherzi per certe persone. Ci siamo infine spostati a Casal Maggiore, città in cui Daniele viveva con i propri genitori e due fratellini per raccogliere le testimonianze di conoscenti e amici i quali sono ancora increduli per quanto accaduto. Era un ragazzo molto buono, io sono rimasta scioccata, letteralmente senza parole, da ieri pomeriggio è stato un trauma, io quando ho scoperto non ci credevo all'inizio e quando ho letto in particolare 24 coltellate e il corpo squarciato in due sono rimasta proprio senza parole. Io l'ho visto nascere, è un bravissimo ragazzo, è un bravissimo ragazzo, non ha mai dato problemi, tranquillo, veramente. Era qui con suo papà e la sua mamma, una famiglia brava, sono disperati, distrutti. Io se fossi il ragazzo che l'ha ucciso mi vergognerei abbastanza di quello che ho fatto perché togliere la vita a un ragazzo di 18 anni con tutta la vita davanti è una cosa bruttissima. Sicuramente chi l'ha ammazzato non è una persona equilibrata. Qui a Santa Chiara lo conoscevano perché ha frequentato lo scorso anno, sono senza parole, non si riescono a trovare le parole per questi fatti che sembrano lontani da noi eppure sono così vicini.